Le processioni del Venerdì Santo sono in Abruzzo una tradizione molto antica, a metà strada tra liturgia, cultura e tradizione popolare. La processione del Venerdì Santo, o del Cristo morto, a Chieti, è la processione più antica d'Italia. La processione ha inizio dalla Cattedrale di San Giustino, ma già da prima migliaia di persone si radunano su piazzale antistante la Cattedrale, lungo il Corso e le altre vie dove il lungo corteo si snoderà. La processione del Venerdì Santo all'Aquila ha una peculiarità che la rende forse unica, cioè quella di essere legata, sin dal 1954, ai nomi del grande artista aquilano d'adozione, Remo Brindisi, e del padre Fedele Brindisi. Dalla Basilica di San Bernardino, tra i palazzi vuoti e puntellati di L'Aquila, si svolge la processione del Cristo morto. A Teramo le processioni del Venerdì Santo, la Penitenziale e del Cristo morto, sono tra le manifestazioni più care alla cittadinanza teramana. La caratteristica che rende forse unica la prima è l'ora insolita in cui essa si svolge, dalle 4 alle 7 del mattino. Canti solenni e struggenti risuonano nella notte, tra le vie cittadine, intonati dal corteo che porta in processione la statua della Vergine addolorata, trafitta da un pugnale. La processione di Lanciano è il culmine della settimana santa che rappresenta per il popolo lancianese un momento di profondo raccoglimento ed è particolarmente ricca di manifestazioni organizzate dall'arci confraternita, orazione e morte, San Filippo Neri, che ricordano la passione di Cristo. A Sulmona, il corteo funebre, composto da centinaia di confratelli vestiti con un saio rosso, simbolo della fiamma della carità, uscendo dalla chiesa della Santissima Trinità, è accompagnato da una banda che suona celebri marce e funebri, quindi attraversa tutte le principali vie del centro storico di Sulmona. Al seguito del corteo sfila una schiera di lampioni bianchi posti ai lati e dietro di essi segue il coro, composto da 120 cantori. Sono molteplici e suggestive le processioni della via Crucis che il venerdì santo si svolgono a Pescara, la prima, la più importante come dimensioni, organizzata dalla curia metropolitana, parte dalla parrocchia del Sacro Cuore con arrivo nella cattedrale San Cetteo. Le altre processioni partono da Rione di Fontanelle, da Rione Colli Innamorati, dal quartiere San Silvestro e infine da Piazza Luigi Rizzo. Ad Atri la processione è molto antica, si avvia dalla concattedrale con il Cristo morto, posto su un grande baldacchino dorato, coperto di veli e velluto nero, e della dolorata, che si incontrano nella piazza antistante con la processione proveniente da San Francesco della Croce. Arrivati a San Domenico si unisce il Calvario, gruppo scultorio delle tre croci. La processione rientra in Duomo, mentre il Calvario riparte per ritornare a San Domenico, dove è conservato. A Caramanico Terme, la confraternita del Monte dei Morti presiede la solenne processione del Cristo morto, si snoda lungo le antiche strade del centro storico, accompagnata dal bagliore delle torce e dalle messe note delle marce funebri intonate dalle bande. A Scanno, tradizione e fede ogni anno fanno riproporre una suggestiva e toccante processione, quella degli incappucciati, un percorso che si snoda per le stradine del borgo antico, a cercare tutte le chiese, con il volto coperto da cappuccio bianco e gli occhi che cercano la strada attraverso i due minuscoli fori. La processione del Venerdì Santo a Spoltore è una dei momenti religiosi più antichi di questo paese e sicuramente il più sentito. La funzione va in scena quando Maria di Magdala vede Gesù e corre verso la Madonna vestita a lutto per darle l'annuncio della resurrezione. La liturgia del Venerdì Santo Pennese, che affonda le sue radici nel Quattrocento, si snoda lungo le vie del centro storico. Gli eventi di personaggi che caratterizzano i momenti della passione non sono impersonati da figuranti, a parte gli incappucciati che sorreggono le lanterne e i baldacchini, ma sono rappresentati da statue. A vasto la solenne processione parte al tramonto, accompagnata dalle note del miserere, dalla chiesa di Sant'Antonio attraverso tutto il centro storico che viene illuminato dalla luce delle torce dei fedeli. Ad animarla i simboli della passione e il Cristo morto coperto da un prezioso velo.